Nel suo intervento al forum post trading T2S è analizzato la quarta wave che coinvolgerà Germania e Clearstream. Quali saranno gli effetti e le specificità di questa wave? Gli effetti saranno un raddoppio dei volumi previsti sulla piattaforma quindi diciamo sarà il vero test di stabilità della piattaforma e allo stesso tempo permetterà quindi di valutare da parte degli operatori italiani che sono già da tempo da 15 mesi in T2S tutte quelle opzioni di efficientamento di armonizzazione e cambiamento dei modelli di business. Ci sono specificità tipiche del mercato tedesco che rimarranno pensiamo alla complessità delle corporate actions punto non ancora armonizzato in T2S. Ci saranno altre specificità non attese come ad esempio l'implementazione della funzione di autocall da parte di Clearstream che non sarà così automatizzata, non sarà così efficiente come ad esempio avviene in Italia e allo stesso tempo ci saranno altre specificità introdotte per così dire dalla necessità di Clearstream di ritagliarsi ovviamente un suo effetto positivo dalle implementazioni di T2S che andranno quindi diciamo ulteriormente a complicare quel progetto di armonizzazione che ci si attende da T2S. Oggi avete realizzato un'indagine fra i partecipanti del forum per conoscere dopo poco più di un anno dalla prima wave la loro opinione sull'adesione italiana a T2S. Quali sono i risultati? Nell'ambito del survey come giustamente diceva abbiamo posto tre domande ai partecipanti. La prima molto diretta la visione, il feeling dei partecipanti su T2S. La stragrande maggioranza ha detto ha avuto un impatto positivo e ciò che ci si aspettava. Le altre due domande vertevano sui benefici. La prima domanda era quali sono i benefici ad oggi? La maggior parte della platea ha risposto alla funzione di autocall e quindi la riduzione della liquidità intraday necessaria al regolamento delle istruzioni. Sulla seconda domanda a quali benefici ti attendi quando sarà T2S completato in termini di immigrazione? La risposta principale è stata quella di armonizzazione. Su questo punto con gli altri partecipanti alla sessione abbiamo concordato che in effetti sono molti i passi ancora da effettuare ma allo stesso tempo le decisioni da intraprendere da parte degli operatori soprattutto sul mercato italiano in termini di quale modello di business vorranno poi adottare in relazione a T2S. Quindi resterò con il depositario centrale, migrerò a un global custodian, utilizzerò un modello ibrido o piuttosto quali servizi vorrò ottenere in casa mia e quali vorrò dare in outsourcing andando quindi a effettuare e a ricevere dei benefici in termini di efficientamento e riduzione dei costi. Grazie a tutti.